Bella ragazzi e benvenuti in un nuovissimo episodio, il secondo di questa serie, cioè dell'Aggiorniamoci Serie dove stacchiamo un po' dal gameplay di FIFA e parliamo a tu per tu di ciò che sta succedendo attorno al canale e di ciò che sta succedendo nel mondo sportivo o nel mondo in generale Innanzitutto, prima di partire con tutto ciò che ho da dirvi e su ciò che mi avete proposto di parlare voi nello scorso episodio Devo scusarmi con voi per i capelli, per la voce ma mi sono appena svegliato, sono tutto attappato, lasciamo stare, andiamo avanti, andiamo avanti In questo episodio andremo prima a parlare delle novità, delle novità del canale, dei cambiamenti che ci saranno nei prossimi mesi e di ciò che andremo a fare Nella seconda parte invece andremo a prendere un solo commento, io ve ne avevo detti due ma questa volta un solo commento Perché praticamente mi avete proposto tutti la stessa cosa nei commenti sotto lo scorso episodio Dopo andremo a vedere l'argomento, andremo a parlare e a questo punto ho deciso di prendere un altro argomento Del quale vi ho già parlato ieri abbastanza su Instagram, un mezzo dissing c'è stato ma vabbè lasciamo stare Quello non può essere chiamato dissing, purtroppo la gente ha una mentalità che vede una cosa Una mezza frecciatina ad un'altra persona e loro pensano subito, oddio dissing, oddio In realtà è solamente una cosa da chiarire e basta Ma siccome so perfettamente che questa cosa non si potrà mai chiarire, ve ne parlo qua, senza fare nomi Allora partiamo dunque con ciò che accadrà in questi giorni sul canale Allora stiamo portando avanti egregiamente vorrei dire la nostra carriera con il Forest Green E il nostro progetto Giovani con il Wecom Wanderers Ieri abbiamo fatto la live con il Wecom, quindi se ve la siete persa, dura un'ora Quindi ve la potete recuperare molto tranquillamente, veramente tranquillamente E dove abbiamo fatto il mercato ci sono stati tanti acquisti, tanti boom E sono veramente fiero di come è uscita quella live E sono qui per avvisarvi proprio che cosa succede? Scaleranno i video, scaleranno, diminuiranno i video Poiché siamo a 11 giorni, sì, a 11 giorni alla maturità Quindi non usciranno più 3 video a settimana sia di una carriera sia del progetto Giovani Bensì usciranno 2 video della carriera con il Forest Green e 2 video del progetto Giovani con il Wecom Scusate ma non ce la faccio davvero, c'è troppo da fare Attorno al canale, soprattutto fuori dal canale Ma come penso già sappiate, Youtube non è la mia proprietà Bensì è lo studio la mia proprietà in questo momento Ma magari quest'estate diverrà la mia priorità Youtube ma è normale, avrò più tempo Dunque se vedrete che diminuiranno i video passando da 7 video a settimana A solamente 4 video a settimana Ne sapete già il motivo Inoltre credo che un mese e mezzo Sì siamo al 9 di giugno Un mese e mezzo, due mesi massimo Inizierà la nuova carriera con l'Orlando Concluderà quella con il Forest Green Già vi avviso quella con il Forest Green Penso di fare 6 massimo 7 stagioni Questa stagione il nostro obiettivo è concreto Il nostro obiettivo è reale Cioè quello di raggiungere l'Europa L'anno prossimo Proveremo Se ci daranno i fondi Proveremo a fare un miracolo in Europa Cosa che vedo molto difficile Quindi credo che Altre due stagioni E poi si concluderà la carriera Credo che vada così 7 stagioni, 8 stagioni Poi non voglio renderla troppo staccante Per voi anche E anche per me Perché poi andrei a perdere anche gli stimoli Però credo che un massimo Proprio un massimo, massimo 8 stagioni Poi basta Inizio da quella con l'Orlando Che vedo che già vi senti Intrigando molto Vi ho spiegato le regole Nello scorso episodio L'aggiorniamoci Che vi lascio qui sopra Nelle schede Se mi ricordo Spero di ricordarmi Sarà una carriera molto interessante Perché è molto diversa Dalla tipologia di carriere basiche Che vedete su tutta YouTube Inoltre nel progetto Giovani Sono state inserite Anzi è stata inserita Solamente una nuova regola Regola che riguarda Il look dei giocatori Ci sono state varie discussioni I commenti Degli scorsi episodi Su gente che Riceveva troppi like Ogni volta Ad ogni Ad ogni suo commento Che di conseguenza Andava a Cambiare il look Di ogni giocatore A quel punto Ho deciso Visto che già Avevo in mente Questa regola Volevo vedere Se nei commenti Senza dire niente Io si potrà scorsere qualcosa Tra di voi Per capire se volevate Se volevate anche voi L'applicazione Da modificare Mentre Dadox Ha ancora uno slot Uno slot libero Mentre gli altri Hanno tutti gli slot Che vogliono Completamente liberi Che sia chiaro Questa non è una regola Per andare contro Contro nessuno Ma bensì È per dare la possibilità A tutti Di far parte Di questa serie Adesso passiamo Alle cose concrete Cioè Al commento Da parte di Source Nye Alberto Che ci dice Allora vado a prendere Il commento Quindi mi giro Un attimo di qua Metterò Una fase Blurrata Con il commento Che esce Poi mi scorderò Completamente Ma andiamo avanti Source Nye Quindi Allora Potresti parlare Di quello che pensi Sulla crescita Di giocatori giovani In Italia E di quello che pensi Sui giocatori Buttati come Berardi Mi saluti Mi chiamo Alberto Ciao Alberto Grazie mille Per il commento Cosa ne penso Già ne ho parlato Tante Tantissime volte Il La primavera Ma Comunque Le giovanili In Italia Fino a un Un certo Tempo Fino a un po' Di tempo fa Erano viste di buon occhio Venivano organizzate Molto bene C'erano allenatori Tra le giovanili Come per esempio Partendo dai pulcini Arrivando agli esordienti Passando per gli allievi Passando per gli juniors C'erano allenatori Che non puntavano a vincere Bensì puntavano alla crescita Del ragazzo Del bambino Di chiunque egli sia Puntavano solamente a quello Non puntavano a vincere Non puntavano a avere i giocatori Con il fisico Alti due metri Con le spalle Larghissime Il problema è che Attualmente in Italia C'è questa volontà Volontà di trovare Un giocatore Un ragazzo Un bambino Già pronto fisicamente Già strutturato fisicamente Che non Che non è neanche opera tua Se andiamo a vedere Perché se quel ragazzo Nasce così Con un fisico del genere E Tutte queste qualità Diciamo che Non c'è Non c'è Un tuo La Si ci può essere il tuo Di farlo crescere Tecnicamente Dal punto di vista tecnico E di intelligenza calcistica Però Un giocatore È più tuo Se lo rendi Come dire Se lo costruisci interamente Partendo già dal fisico Io per esempio Sono alto 1,72 Non sono Chissà che Quando gioco a calcio Ero uno dei più bassi Squadra Sono anche magrissimo Quindi Pensate un po' Non ho per niente La struttura fisica Però avevo un allenatore Che comunque Non pensava a quello Pensava alla A Ciò che potevo essere io Alla mia crescita calcistica Eccetera Non pensavo ad avere Già giocatori altissimi Già pronti fisicamente Assolutamente no È una mentalità sbagliata Che in Italia ancora Non si è capito Fino a qualche anno fa Si era capito Si era capito Infatti Sono usciti i giocatori C'è stata Una Una cosa incredibile In Italia Un paio di anni fa Ve l'ho spiegato malissimo In questo momento Però Spero che il concetto Vi sia arrivato Non va Va cresciuto Sia fisicamente Che dal punto di vista Tecnico E di intelligenza calcistica Il giocatore Non Trovare già il giocatore Pronto E strutturato fisicamente E renderlo Forte dal punto di vista Tecnico Si Si può fare Attenzione Non sto dicendo che non si può fare Si può fare Però scartare tutti E dico tutti I giocatori I ragazzi O i bambini Che sono bassi Di statura E sono Magari fisicamente Senza dargli neanche una possibilità E magari erano Anche più forti Dei giochi Già pronti fisicamente E' una cosa abbastanza sbagliata Poi ovviamente il problema Non concerne solamente questo Concerne tanti Tanti Ma tantissimi punti Che Parlarne Ne starei a parlare qua Un giorno intero Ma Siccome è un video di 10 Barra 12 minuti Non posso allargarmi così tanto Dal punto di vista invece Dei talenti buttati come Berardi Che devo dire Berardi E' un giocatore Che a me non ha mai fatto impazzire E' un po' una testa calda E' anche colpa sua Se non è esploso E' una testa calda Assolutamente Lo conosciamo E' un giocatore Che ha rifiutato varie volte I big Le big Come per esempio La Juventus Che ce l'aveva in mano Lui ha preferito restare Al Sassuolo Come per esempio L'Inter Qualche anno fa Non è una novità Che l'Inter Sia sempre dietro A Berardi Ha continuato a rifiutare Restare a Sassuolo Cosa che può essere Comunque vista Dal punto di vista Di attaccamento alla maglia Cosa che può essere Mai dire mai Adesso Sembra molto Ma molto Vicino alla Roma A questo punto Spero per lui Magari potrebbe essere Una crescita Generale del giocatore Arrivare in un ambiente Come dire Più blasonato Cioè come quello della Roma Per il rispetto Con tutto il rispetto Per il Sassuolo Che è una squadra Che io stravedo Dal punto di vista giovanile Una squadra Completamente Quasi italiana Che fa crescere I giocatori Giovani Italiani E' forse una delle poche squadre Che ci tiene davvero Sul punto di vista giovanile Però Se andiamo a vedere A confrontare Roma E Sassuolo E' ovvio che la Roma Sia un club Più blasonato Quindi Berardi Potrebbe prendere Questa opportunità Come trampolino di lancio Però Non lo so Sinceramente Il reale motivo Della sua non esplosione Cosa che fino a due anni fa Sembrava certa E poi alla fine Così non è stato E' stato un peccato E' stato veramente un peccato Perché aveva dimostrato Di avere qualche numero Ma sinceramente Come già vi ho detto Non è che Che impazzivo per lui E non è che impazzisco Tuttora Adesso passiamo al Forse all'argomento principale Di questo episodio Ciò Di cui vi ho parlato ieri Su Instagram Ho fatto questa storia Adesso vi metterò Lo screen qua Dove andavo Aspettate Vado a riprendere la storia Faccio un piccolo taglio Ve la vado a riprendere Anzi Eccola qua Ce l'ho subito Mettevo I nomi di tre giocatori Solamente tre giocatori Cioè Roberts Ostigarp Keita Con scritto L'unica differenza è che La carriera è con un'altra squadra Se non faresti prima A chiamarla Carriera allenatore Forest Green Rovers Con sotto scritto L'originalità Su Youtube Italia Eeeh Perché Molti di voi hanno capito A chi mi riferivo Era anche abbastanza ovvio Eeeh E' uno Youtuber Che mi ha saltato All'occhio ultimamente E' uno Youtuber Che anche seguivo Abbastanza prima E' dal punto di vista Dei video della Juventus Perché io sono un tifoso juventino Mi interesso sempre Di vedere Youtubers Juventini Che trattano L'argomento Juve Eeeh Mi ha saltato all'occhio Maggiormente In quest'ultimo periodo Poiché Ha iniziato una carriera Con la scuola di League 2 Eeeh Quasi facendo passare Come se fosse l'unico In Italia A farlo Come se fosse stato Il primo in Italia A renderla pazza Come carriera In realtà Il primo in Italia È stato Darkin Channel Che purtroppo Ha chiuso il canale A quanto pare Con il Portsmouth E non è riuscito a concludere Il primo in Italia A concludere una carriera Con una scuola di League 2 Invece siamo stati noi Lo scorso anno Con il Portsmouth Un po' Cioè come dire Ha fatto passare Come una novità Generale Che non è mai stata vista Su Youtube In generale Cosa assolutamente Non vera Cosa che comunque Ci può stare Perché è normale Che uno Youtuber Pompa le sue idee Come non mai Per rendere Per far avere più hype Ai propri scritti Cosa che è giustissima Però Il problema si pone Quando te Hai nel tuo hub mercato Nella tua lista Preferiti Completamente Dico Giocatore per giocatore Tutta La lista Preferiti Che vi ho fatto vedere Varie volte Nella mia carriera Con il Forescreen Partendo da Trot Passando per Keita Passando per Roberts Passando per Leo Osticard Passando per James Justin Passando anche per Buagiar Passando anche per Germain Anderson Passando per Keenan Davis Passando per tutti Per tutti C'è ogni singolo giocatore Che è presente Nella mia lista preferita Del Forescreen Ogni singolo giocatore Passando anche per Trot Mi sembra di averlo già detto Passando per tutti Per tutti E se te mi va a acquistare Anche tutta quella gente Pecca di originalità Pecca di originalità Io non sto andando Contro la persona Attenzione eh Perché io non lo conosco A questo ragazzo Può essere anche il ragazzo Più bravo al mondo Io sto giocando dal punto Di vista dei video Sto giocando dal punto Di vista di ciò Se te mi va a comprare Roberts Se te mi va a contattare Osticard per l'acquisto Se te mi va a comprare Keita Se te mi va a contattare Buagiar Se te mi vai a prendere Quell'altro Quello che ho già preso qua E di là Va bene Ce ne possono stare due Acquisti Tre acquisti Ma se te mi vai a prendere Tutti i giocatori Che ho provato Ho cercato Ho conosciuto Vi ho fatto conoscere La mia carriera Con il forest green Come dire Sminuisci il lavoro Di un altro youtuber Sminuisce anche il lavoro tuo Perché non è un lavoro tuo Non è un lavoro tuo Quello È una cosa che Io sto facendo Sto cercando Di far capire A molti youtubers Che magari Mi scrivono in privato E mi dicono Perché mi ha citato di là Perché mi ha citato di qua Quando io non ho mai fatto Nomi in vita mia Però purtroppo C'è questo problema Che la gente si sente tirata in mezzo Perché purtroppo Ha la coda di paia E quindi Conferma ciò che penso io A volte E niente Vi volevo dire solamente questo Cerchiamo di Di Come dire Tirare fuori La parte bella Di youtube Dei nostri canali youtube Provando a portare originalità E non andando a scopiazzare Completamente E dico completamente Una lista preferita Di un altro youtuber Che magari Si è cercato Quei 100 200 giocatori Per 2-3 mesi Anche prima L'uscita di più da 18 E poi si vede Sfumare davanti a sé Tutto ciò Che ha fatto In quei 2-3 mesi Che ha dedicato Al suo canale youtube Cercando di portare Sempre più originalità Perché Te Lo vai a scopiazzare E perché Vai a promuovere Il sito Di potenziali Cosa che io Non capisco Tutto ora Uno Uno youtuber Che fa carriera Che va Sponsorizzare I siti di talenti Che si proclama Come scoprirò I talenti stesso Cosa che non capisco Comunque Detto questo ragazzi Fatemi sapere qua sotto Di qual argomento Parla nel prossimo episodio Strutturando l'argomento Chiedendomi Su quali punti Focalizzarmi E soprattutto Di cosa ne pensate Di questa originalità Falsa Su youtube italia Noi ci vediamo alla prossima Ci vediamo domani Con un nuovo episodio Della carriera Della natura Con il forest green Cercherò di farvelo avere Anzi Credo di no ragazzi Ve lo dico sinceramente A carriera Con il forest green Credo che domani Non esca Non ho veramente tempo Detto ciò Noi ci vediamo allora lunedì Con un nuovo episodio Della nostra carriera Della natura Con il forest green E niente Statemi bene Passate un buon weekend Bella